Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 69esima puntata del podcast di Marcos Box. Che bel numero il 69, vabbè, faccio miseria. Iniziamo la settimana parlando di Apple, con una notizia che ha monopolizzato praticamente la stampa internazionale. I giornalisti del settore tecnologico l'avevano preannunciato già da diverso tempo e adesso finalmente si è concretizzata questa decisione, questo grande passaggio, questo grande step in avanti che Apple ha intenzione di compiere. I futuri desktop e laptop realizzati da Apple utilizzeranno dei nuovi chipset chiamati Apple Silicon, che praticamente sono dei stock proprietari sviluppati internamente e basati su architettura ARM. Il primo Mac a far uso dei nuovi processori Apple Silicon arriverà entro la fine del 2020 e la transizione alla nuova architettura si completerà entro due anni. Il primo sistema operativo in grado di supportare i nuovi processori Apple Silicon sarà Mac OS 10.16 Big Sur. Il passaggio ad ARM, come lo volete pronunciare, consentirà ad Apple di avere maggiori prestazioni e al contempo una migliore efficienza energetica rispetto alle attuali soluzioni Intel. L'altro grande vantaggio sarà la possibilità di poter eseguire direttamente applicazioni native iOS e iPadOS direttamente su Mac OS senza nessuna modifica. Gli sviluppatori saranno in grado, ha detto di Apple, di poter migrare le proprie applicazioni in pochi giorni, mentre per quelle applicazioni che non sono state ancora migrate, che gli sviluppatori sono ancora un po' pigri e quant'altro, potranno comunque essere utilizzate grazie alla tecnologia Rosetta 2 che praticamente consentirà l'esecuzione di applicazioni pensate per Intel anche sull'architettura Apple Silicon. La tecnologia di virtualizzazione consentirà inoltre agli utenti di utilizzare Linux durante il keynote del WWDC 2020 e è stata infatti mostrata una macchina virtuale con Debian e GNOME Shell, quindi fa piacere poter vedere una cosa del genere. Bene, il dual boot però in questo caso non sarà supportato, quindi vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, se magari Apple deciderà di tornare sui suoi passi o rimarrà così, quindi saremo costretti a utilizzare tutto su macchina virtuale. Vedremo. Restando in ampi computer portatili, bene, Dell questa settimana ha annunciato l'arrivo del nuovo Dell XPS 13 Developer Edition. Che cos'è il Developer Edition? È un'edizione dell'XPS 13 indirizzata agli sviluppatori che viene rilasciata e viene venduta con Ubuntu preinstallato. La novità di questo nuovo Dell XPS 13 Developer Edition, di questa nuova versione, è che è il primo ad essere equipaggiato con Ubuntu 20.04 con una serie di ottimizzazioni messe qua e là da parte di Dell, quindi considera di avere un hardware al 100% compatibile, al 100% supportato. Il nuovo Dell XPS 13 Developer Edition con Ubuntu 20.04 è disponibile dal giorno 23 giugno con un prezzo che parte nella configurazione base da 1099,99 dollari, quindi 1100 dollari. Se volete farmi un regalo, sapete che cosa comprare. Cambiamo totalmente argomento e passiamo al mondo delle applicazioni Android. Se sentite in questo momento rumori di motociclette che rientrano nell'audio, non fateci caso, ma è estate, ho la finestra aperta. Sapete bene che io vivo a Foggia una succursale di Mordor e qui il caldo è micidiale, quindi sono costretto a tenere la finestra aperta, altrimenti soffoco dal caldo. Comunque, torniamo all'argomento principale, torniamo a parlare di applicazioni Android e parliamo di Firefox Nightly. La versione di Firefox in sviluppo, quella basata su Redesign, che adesso offre delle nuove tre estensioni, nuovi tre componenti aggiuntivi che possono essere attivati. Questi nuovi componenti aggiuntivi sono praticamente delle estensioni che aumentano la privacy del browser, abbiamo Decentralize, Privacy Possum e YouTube Eye Definition. Andate su Marcosbox dove trovate i link per poter vedere cosa fanno queste estensioni, che potete comunque, vi ricordo, installare anche su Desktop. Sapete bene che sono un sostenitore del software libero open source, qualche settimana fa sono venuto a conoscenza di una lettera aperta, fatta alla ministra Azzolina e firmata dal professor Angelo Raffaele Mio, e dalle principali associazioni promotrici del software libero italiano, volte a chiedere alla ministra di poter abbandonare soluzioni come Zoom, ma in generale di attivarsi in favore della promulgazione di una legge che proibisca l'uso di software proprietario nella pubblica amministrazione, l'obbligo di utilizzare file standard aperti e consentire l'uso di infrastrutture IT in cloud soltanto se queste sono nel controllo della pubblica amministrazione italiana, quindi con un cloud privato. Ho deciso di aderire a questa iniziativa, a questa lettera aperta, ho fatto domanda di adesione e adesso trovate sul sito anche il vaggi di Marcos Box, quindi aderisco anch'io a questa godevole iniziativa. Se avete gli account sui vari social, diffondete questa notizia che è una notizia molto interessante, molto importante, e speriamo che venga colta questa opportunità dalla parte della ministra Azzolina. Infine, ultima notizia della settimana riguarda il rilascio di Linux Mint 20. Il team di Linux Mint ha finalmente ufficializzato il rilascio di Linux Mint 20, la nuova mail release basata su .2004, perché dico ufficializzato perché, in verità, le ISO erano disponibili già da diversi giorni sui mirror ufficiali, ma la notizia dell'annuncio ufficiale è stata adotta soltanto il giorno 27. Come la distro dalla quale deriva, anche Linux Mint 20 viene rilasciata soltanto nella edizione a 64-bit, nelle tre varianti consuite, Cinnamon, Mate e XFCE. Le differenze riguardano principalmente il desktop environment, perché le applicazioni in base, il parco software, è praticamente lo stesso tra tutte e tre le edizioni. Così come anche l'esperienza utente, perché con lo stesso tema, con lo stesso layout, quindi a voi la scelta soltanto dal punto di vista sentimentale o prestazionale, anche se più o meno le prestazioni si equivalgono tra tutti e tre i desktop environment. A segnare però la differenza con Ubuntu 20.04 abbiamo la decisione da parte dei team di Linux Mint di non consentire l'installazione dei pacchetti in formato SNAP. Su Marcosbox ho postato, diverso tempo fa, un articolo a riguardo che vi invito a leggere. Come da tradizione, anche per Linux Mint 20 ho realizzato una guida post-installazione dove troverete anche informazioni su come abilitare i SNAP, qualora vogliate, oltre che una breve pranoramica delle principali applicazioni che ho trovato su questa lista, perché oltre a le solite applicazioni che abbiamo visto durante le vecchie release, questa nuova versione di Linux Mint ha introdotto anche un nuovo programma chiamato Warpinator, che è praticamente un tool che ci consente di inviare e ricevere file tra il computer appartenente alla nostra stessa rete. È un'aggiunta in più che può far piacere, come no. Io l'ho provata, l'ho provata su macchina principale, l'ho installata, perché naturalmente, sapete bene, io quando faccio le guida le testo su macchine reali, non le faccio su macchine virtuali, perché ho bisogno di provare veramente la distribuzione per vedere come gira, le prestazioni sono buone, non c'è che dire, però anche in questo caso Linux Mint, anche con questa edizione, mantiene alcuni dei suoi problemi principali che riguardano l'interfaccia grafica che ormai è vecchiotta, andrebbe svecchiata, sapete bene, se avete seguito i vecchi articoli su Marcosbox a riguardo, era stato fatto l'annuncio di cambiare un po' i colori dei temi Mint Y, la palette colori per svecchiare, per rendere veramente i blu blu e altre cose, poi ci sono state alcune proteste il team di sviluppo ha annunciato che questo aggiornamento, almeno per quanto riguarda la palette colori, arriverà più avanti, arriverà con la prossima edizione fra sei mesi, che sarà, vi ricordo, sempre basato sulla LTS, ma faranno soltanto l'aggiornamento di Cinnamon e appunto di qualche altra cosina qua e là, però a mio avviso questo non basta, perché la distro andrebbe svecchiata proprio nell'interfaccia generale, Cinnamon andrebbe svecchiato, andrebbe modernizzato, perché sembra sempre una cosa vecchio stile, qualcuno l'ha paragonata su Reddit, su Linux Mint l'ha paragonata alla Toyota praticamente delle distribuzioni Linux, cioè quella cosa brutta che però uno utilizza, però è brutta, effettivamente è brutta, e confermo, almeno per i miei gusti personali trovo Linux Mint brutto, trovo Cinnamon brutto, lo trovo troppo vecchio, infatti una delle prime cose che faccio ogni po' di volte in installo Linux Mint è cercare di trovare una combinazione di colori, pacchetti di icone e quant'altro, ad esempio, io mi sono realizzato un fork dell'icone di default di Linux Mint, ne ho realizzato un fork escludendo le applicazioni in terze parti, perché per esempio una cosa che è una piccola critica, io faccio sempre a Linux Mint, è che è stata fatta anche da altri, perché sono stati aperti su GitHub alcune richieste in tal senso, riguardo il fatto che su Linux Mint si ostinano a voler realizzare delle icone per i programmi in terze parti, quindi Firefox, Chrome, Telegram, hanno delle icone che sono personalizzate da team di Linux Mint che non si possono vedere, perché sono assolutamente orribili, oltretutto a mio avviso è anche una mancanza di rispetto nei confronti di chi realizza i vari programmi, che magari fa uno studio per realizzare una bella icona che contraddistingue l'applicazione, poi tu la vai a sovrascrivere in questa maniera. Io amo quello che è stato fatto in gnome di lasciare inalterate le icone di terze parti e auspico che anche il team di Linux Mint faccia altrettanto. Poi vi ripeto, andrebbe svecchiato un po' anche il tema delle finestre, e un po' i temi andrebbero svecchiati non solo nei core, ma anche aspetto generale, però questa è una critica personale che faccio io, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Comunque nulla da dire per quanto riguarda la distro, perché risulta leggera e stabile, quindi nel complesso mi è piaciuta sotto il punto di vista della leggerezza della competenza e quant'altro. Dovrebbero lavorare sul grato estetico, perché anche il grato estetico è importante. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!